e andiamo di secondo tentativo per il mythic e siamo al secondo tentativo per il mythic qui oggi gennaio 2024 cerchiamo di fare il primo mythic dell'anno con una mano decente ci abbiamo screve se lui non gioca tanto, lui non gioca dinosauri non veniamola invece non mi sapeggiava il dinosaurio quindi questo vuol dire che lui terzo turno farà qualcosa quindi terzo turno bruto al cadavro per underplay mu sei sei che balle che balle che balle mi sento la sbordata in testa oh no però qui ho un passo comunque quindi devo giocare una partita diversa io devo giocare una partita diversa oh no muo' gli raddoppia la forza uno due tre quattro cinque si io ho sempre forza i mythic doppia spam in questo turno si bordo si bordo devo bordo non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu. Tu. Sì! Ce l'hiamo fatta! Ce l'hiamo fatta! Ce l'hiamo fatta! come quanto lui possa raddoppiare ce l'hiamo fatta allora la domanda è lui raddoppia oh dio la battaglia ok ecco l'ho morto oh però ah no c'era videocamera non devo fare cose oh yeah il primo mythic dell'anno